Si è fatta ingannare da queste immagini false, cioè queste immagini non false sue, che l'avrà scambiato per un uomo, cioè come è riuscito ad accadere? Come dice la dottoressa Perillo giustamente, cioè su internet o sui social in questo momento accadono delle cose di tutto e di più inimmaginabili. Oggi un ragazzo probabilmente con un sex appeal come lui voleva mostrare di avere ha probabilmente in qualche modo acceso qualche fantasia ad una donna non più giovanissima rispetto al 17enne naturalmente che magari aveva voglia di avere un rapporto con questo ragazzo e quindi si sono trovati, si sono contattati. Ma purtroppo questa è una cosa molto, diciamo, che capita quotidianamente a centinaia e centinaia di persone. Devo dire che bisognerà assolutamente attenzionare, cioè i network e i social dovranno sicuramente mettere anche con il supporto e l'aiuto della polizia postale dei campanelli di allarme, degli alert maggiori. Perché questo ragazzo postava, a parte le sue foto, però le svastiche, frequentava siti e piattaforme dove si parlava di sesso estremo, come si faceva ad uccidere, come veniva meglio uccidere a mani nude. Anche occultare il cadavere. E occultare il cadavere. Queste cose non possono in una comunità soprattutto di minori sfuggire all'attenzione di chi in qualche modo deve dare, diciamo, delle sicurezze. Perché, insomma, certe volte vengono oscurati gli account per situazioni molto meno, diciamo, gravi o semplicemente si è espresso un parere politico, un'osservazione etica. Si vengono oscurati i siti. E' possibile che non ci sia nessuno che in qualche modo di fronte a queste manifestazioni così già degeneranti a livello psicologico, a livello psichiatrico, perché non possiamo parlare di un disagio psichiatrico. Bisogna capire anche la famiglia, gli amici, se non se ne sono mai accorti di questi atteggiamenti. Il cadavere ha dichiarato, come tutti i papà anche di Paderno Dugnano, i parenti, gli amici, eccetera, un ragazzo, o nel caso di Chiara, un ragazzo assolutamente normale. Ci dobbiamo chiedere sempre, noi adulti abbiamo perso la concezione della normalità o della normalità, perché non vediamo più. Quei bravi ragazzi che uccidono, dottoressa Petrini.